Barbara D'Urso, celebre conduttrice televisiva, ha suscitato molte speculazioni sul suo futuro professionale dopo la scadenza del contratto con Mediaset. Attualmente impegnata in uno spettacolo teatrale a Roma, ha annunciato il suo ritorno sui social media, alimentando le voci su una possibile collaborazione con il canale 9 o addirittura con Netflix. Ciò che ha attirato maggiore attenzione, però, è la richiesta di interviste proveniente da vari conduttori Rai. Secondo quanto riportato da Dagospia, numerosi dirigenti della Rai desiderano avere Barbara D'Urso come ospite per discutere della fine del suo rapporto con Mediaset volti noti della televisione italiana, tra cui Francesca Fagnani, Mara Venier, Serena Bortone, Caterina Balivo e Alberto Matano, sono interessati a ottenere un'intervista esclusiva con la popolare conduttrice. Le speculazioni sul suo futuro professionale includono la possibilità di apparire nel programma Belbe di Francesca Fagnani su Rai 2, anche se al momento nulla è stato confermato ufficialmente. Inoltre, c'è l'ipotesi che Barbara D'Urso possa condurre un nuovo programma sulla Rai, suscitando la curiosità del suo pubblico su un possibile ritorno alla televisione pubblica. L'articolo evidenzia anche un incontro di Barbara con Pierluigi Diaco e suo marito Alessio Orsinger, durante il quale Diaco ha dichiarato di essere in lista insieme ad altri colleghi per chiedere un'intervista esclusiva alla D'Urso. La conduttrice ha risposto in tono scherzoso con un mai. L'ipotesi di vedere Barbara alla guida di un nuovo programma Rai aggiunge ulteriore suspense sul suo ritorno televisivo.